leo il camioncino curioso e l'elicottero giornata di pioggia e vento al parco giochi Lifty si è chiuso dentro al negozio fuori il vento porta via tutto quello che trova e fa sbattere anche la porta del negozio sta succedendo qualcosa sul tetto insegna si sta staccando cade si è caduta proprio davanti al negozio e con questa tempesta nessuno esce di casa finalmente un po di cielo sereno e il sole ciao leo Lifty ha bisogno di te o due gocce d'acqua proprio sul tuo naso ne è caduta di pioggia non puoi farcela da solo sta arrivando leo leo ha qualcosa nel cassone vediamo è la cabina di pilotaggio di un elicottero dentro ha due basi arancioni questo che cosa può essere sì è il tettino con l'asse delle eliche ecco la trave di coda i due sedili da fissare sulle due basi arancioni la cloche e la strumentazione di bordo per pilotare l'elicottero il parabrezza ecco i due portelli e questa è l'elica rotante con tre pale ma con cosa poggi a terra ecco con due pattini l'elicottero è pronto a volare che c'è Lifty ma anche il rotore posteriore leo è andato a cercarlo forse è caduto per strada qui non c'è ce l'hanno loro venite con me robot robot rosso l'elica che ha in testa va sulla coda dell'elicottero questa impedisce all'elicottero di girare su se stesso e ora l'elicottero può decollare i robot sono programmati anche per pilotare un velivolo Lifty l'insegna è di nuovo al suo posto alla prossima puntata con un altro gioco di squadra ciao a presto